bella a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video oggi ragazzi siamo con i premi della weekend league la prima volta su questo canale spero la supportate tantissimo raggiungiamo almeno 25 like se volete anche la prossima settimana sempre gli stessi premi o comunque magari case che è qui in chiamata con me saluta gates bella raga faccia magari un fuoriclasse 1 un top 100 magari e dai speriamo bene questa qui è la formazione che usa lui di weekend league ora vi faccio dire due cose proprio due cose da lui su questa squadra bene o male la squadra che avete visto l'altra volta ho giusto cambiato qualche giocatore un po per divertimento e con rushford mi sottratto benissimo e anche con firmino però comunque appunto per cambiare sta week league dovrei vendere rushford e prendere l'esterno ossa e maximino male e vorrei provare parti tozza punta l'unico cambio per adesso la squadra dovrebbe rimanere questa quindi rega direi che ha spiegato un po la squadra andiamo subito a riscuotere sia riscaldare riscattare questi 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 premi oro 2 ha fatto il signor case siamo prontissimi però direi che non direi non so se sei d'accordo dire di non aprire subito questi c'è andrei prima al pacchetto quello tozza garantito se sei d'accordo no a me il tozzo garantito così per i peschi e poi dopo che lì almeno c'è un po di scelte la parte se no magari le capita lo stesso capito o di buttare canta e non scambiabile ecco rega questa qui è la formazione che ha messo che per questa sfida per questo tozzo garantito della liga direi che comunque vabbè lui aveva tanti giocatori nel club credo ha speso forse una cinquantina dei mila credi gli altri ha speso proprio zero eccolo sta qui ha speso proprio zero quindi direi che è molto facile da fare è non scambiabile quindi direi di aprire prima questo pacchetto comunichiamo la rosa e ce l'andiamo ad aprire oddio so carichissimo giocatore tops la liga garantito siamo prontissimi andiamo 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 si vabbè ci mette due giorni per aprirlo però dai mamma mia sto troppo in ansia perché tizio sennò manna niente sembra che tu abbia già degli oggetti ah è vero tu apri il primo pic per forza dai madonna mia apriamo il primo siamo prontissimi primo pic oddio santi casorlo black buono buono è più casorla si c'ho cinque di piede debole e quattro di skill beh non è male come primo pic gli altri poi c'è sta si se e donk poi c'è sta pure oblac non so se hai mai sentito 96 porco giuda è andata bene dai santi casorla dai andiamo con il secondo prontissimi dai voglio scular qua anche se comunque casorla ma l'avevi pure chiesto come da ieri dai altro pic altro pic terze che ne oblac e sì poi c'è sta sosa e lukas perez vabbè sosa è uno della liga turca 92 è quello leader milan to ricordi e lukas perez della liga 88 vabbè attaccante vabbè c'è ho black interstake no c'è non lo usi in portiere c'è so forse dai alla buono dai sei sei soddisfatto di sti premi che sia voglia eh dai poteva andare a peggio ora andiamo con il tozzo garantito a questo punto me lo tengo all'ultimo mo che faccio bonus seria oro no guido non te li apro ok quindi apriamo pacchetto oro rari prima e poi i pacchetti mega raro dai andiamo con il primo pacchetto oro rari dai questo qua non mi aspetto tantissimo alla fine questo nen super pack dai infatti manco bandierina e niente schippiamo subito andiamo con il mega pacchetto raro andiamo subito rapidi e indolore dai 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 questo deve essere buono questo deve essere buono bandierina però non è un cavolo tedesco c o c dell'azzo non lo villo ok bello a merda allora mega pacchetto raro siamo prontissimi ultimo pacchetto prima del tozzo garantito la liga dai 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 qualcosa di buono questo è buono ok walk out però non è non è tozzo oddio cc dalmeno modriciano modricio non so che è tozzo ma la raggi ci ho provato era meglio modricio però vabbè raggi non so che c'è un burro raggi si ce l'hai vabbè devo mettere tutto sopra dai sono pronto per sto tozzo alla liga però però mamma mia c'è chi ti serve diciamo c'è chi vorresti quindi tipo se mi esce il latte mi va bene ok se no mi servirebbe un giocatore usabile che divertisse ovviamente Messi, Griezmann, Benzema tipo Varane, Sergio Ramos, questi qui i diventori sono tutti perfetti c'è anche tipo qualcuno per divertisse tipo l'88pherz che mi pare che c'è un buono statistico però l'unici che spero di non trovato sono quei due che abbiamo trovato prima eh sì magari dai dai per countdown aspetta quanta le luci fai tipo come fa Hollywood conta 5 luci e poi aprilo 5 luci ah quelle sopra il pacco 3 4 5 io aspetto pure la setta 6 via 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 con questo tozzo guarda mia no non dico niente no non dico niente aim fire porca puttana argentina no non ci credevo no non ci credo c'è ma perché fanno ste cose, sti stronzi del, del, dell'iei argentino addi ma non lo potevano fatti, dica, qualche altra cosa no ma è proprio fatto apposta, sti versi del merda madonna argentino addi, porco giudo, non ci credo c'è a fine o campos è pure buono eh cioè statistiche non lo so se li sai sì ma va male, adesso ci sono 3 miliardi vabbè il 3 inter più scrauto che poteva uscire no però vabbè non ce l'ha brutto cioè lo so, mi ha detto malissimo però a fine 95 di velocità, 97 di fisico, 92 di dribbling 85 di tiro, gli metti qualcosa per tiro c'è un buon giocatore vabbè 3 dei piedi eh? però porco giudo cioè te lo giuro io non sapevo di o campos cioè ci sono rimasto malissimo cioè non ci te lo giuro mi hai preso un infarto cioè ho detto gli ho sbortato il mondo gli ho sbortato invece o campos va bene ragazzi se questo video vi è piaciuto invito a lasciare un bel like arriviamo almeno a 25 like se volete la settimana prossima sempre questi premi sempre offerti da Capes sulla ligana che sarà una merda però vabbè qualcuno dei forti ci dovrebbe essere credo dai ci sta bene header dove eh ci sta bene header che se glielo trovo penso che gli ho sbortato il mondo quindi ragazzi lasciate un like iscrivetevi al canale che è molto importante iscrivetevi al secondo canale su instagram lk04 qui da Lask è tutto anche da Capes quindi ragazzi ci vediamo un prossimo video bella bella bella